Mia mamma era disperata, diceva Maurizio stai attento che rischi, invece io non ho rischiato sulla moto, ho rischiato sul lavoro. Aveva 22 anni Maurizio, lavorava da un mese in un'azienda metalmeccanica del Modenese. Stava cambiando una lama quando la pialatrice partì all'improvviso. Non c'erano fotocellule, sensori, protezioni. Salvato in extremis, ha perso la gamba sinistra. Un'invalidità che mi ha sconvolto, modificato tutti i miei progetti. Alberto per 25 anni ha lavorato in centrali termoelettriche. La turbina era coibentata con almeno 30-40 cm di amianto friabile, emetteva delle vibrazioni e queste vibrazioni liberavano le fibre. Le placche d'amianto che ha nei polmoni gli hanno provocato l'asbestosi. Questa patologia comporta una difficoltà di respirazione. Daniele stava usando un solvente nel cantiere di un garage quando si è verificato un'esplosione. Un boato, delle fiamme alte mi sono girato nel tentativo di uscire e poi sono scivolato. È stato ricoverato per un mese al centro grandi ustionati dell'ospedale Bufalini di Cesena. Le probabilità di morte e del mio ingresso in ospedale erano molto molto alte. Maurizio, Alberto e Daniele sono insegnanti d'eccezione nelle lezioni di sicurezza sul lavoro. Hanno portato la loro esperienza di vita agli allievi della scuola di Ile di Reggio Emilia con un obiettivo. Creare un processo di immedesimazione dove le persone inizino a pensare che non capita sempre agli altri. Grazie. 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 Grazie.